A proposito, a proposito di che anno, io vengo proprio ora da una vacanza, penso a un po' di scherzo. Oh, io sono l'ora di andare in Tibet, ma purtroppo ho dovuto contentarmi, ecco. Per sapere quale piacciono le montagne, le noi più orrose, i tuoi sogni cancati, le storie fantastiche di un uomo, ti sorridono i morti. Ma no, non avete capito poco, insomma, io ti dico la storia della fortuna. A proposito, a proposito, a proposito, a proposito, un'altra, che è una vacanza e non ha avuto un po' di scherzo. A proposito, a proposito, a proposito, a proposito di un'altra, che è una vacanza Editoフリ Edito 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 A presto! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti